Ciao a tutti amici di YouTube, in questo video vediamo come personalizzare le informazioni relative al computer, ma se cercate altri trucchi, suggerimenti e personalizzazioni per questo sistema vi invito a seguire la mia playlist a riguardo. Detto ciò iniziamo. Avete presente la voce sistema all'interno del pannello di controllo? Quella che visualizza le informazioni di base relative al computer, sarebbe bello personalizzare alcune voci come il nome del produttore, il modello, la sezione supporto, l'icona che compare a destra della voce sistema e tanto altro. Tutto questo è possibile farlo grazie a questo programmino chiamato Winbubbles, innanzitutto scaricatelo ed estraetelo, eseguite Lex come amministratore, accettiamo le condizioni di licenza e ignoriamo la lettura della documentazione. Ora possiamo inserire l'immagine del produttore, completare i vari campi in maniera facoltativa, manufacturer, produttore, model, modello, website, sito web, support hours, ore supporto, phone, telefono, owner, proprietario, organization, organizzazione. Completato il tutto cliccate su apply e successivamente su oem info. Le informazioni aggiunte saranno anche visibili in impostazioni sistema informazioni su. Premetto che per utilizzare il software nel pc deve essere presente il net framework 3.5, per attivarlo è sufficiente recarsi nel pannello di controllo programmi attivo disattiva funzionalità di windows. Winbubbles è compatibile da windows 7 in poi. Per rimanere sempre aggiornato sul canale ti consiglio di iscriverti ed attivare le notifiche. Editare in un sito subiturano pubblicasciatiche Grazie.